Il rider dei libri durante la quarantena li ha distribuiti a domicilio e le vendite sono volate. La storia di Nunzio Belcaro finita in prima pagina su Repubblica in Cantalitalia, noi lo abbiamo incontrato. Calabria in prima pagina per una storia positiva. Un libraio di Catanzaro, Lido, Nunzio Belcaro, durante il periodo di quarantena ha consegnato libri a domicilio mentre ovunque le vendite vanno male, la sua libreria ha registrato una crescita delle vendite anche rispetto all'anno scorso. Il quotidiano Repubblica gli ha dedicato una pagina con uno spazio centrale in prima, lo ha incontrato Gennaro Cosentino. Noi avevamo questo pensiero, poi è diventata un'urgenza perché la libreria era chiusa. C'è stata la possibilità a libreria chiusa di agire nel territorio comunale, solo comunale, con le consegne a domicilio e ci siamo buttati. Era sopravvivenza, era lotta e ci siamo resi conto invece che serviva tantissimo. Nunzio Belcaro ha 41 anni, fa il libraio indipendente dal 2006, da nove anni è titolare della UBIC a Catanzaro Lido. In piena pandemia, mentre tutti restavano chiusi in casa, non appena il decreto glielo ha consentito, Nunzio è salito sulla sua motoretta e ha cominciato a percorrere a tappeto il territorio vasto e variegato di Catanzaro. Consegne a domicilio, libri richiesti, libri consigliati o regalati a distanza. Affetti che erano separati, amici, fidanzati, bigliettini che dovevamo scrivere pure, alcuni sotto dettatura, ma altri Nunzio mi scrivi una bella cosa per la mia fidanzata che non ci stiamo vedendo da 20 giorni e gli porti questo regalo. Senza temere neanche la concorrenza dell'e-commerce. Fidelizzazione e consigli del libraio sono state le sue carte vincenti. E la comunità nostra, la fidelizzazione, questa libreria che la sentono un po' loro, tutti i nostri lettori, hanno detto no, noi giochiamo in casa nostra e hanno chiamato noi, ma non solo i nostri lettori, questa è stata la grande sorpresa. Così, il mese di maggio, mentre il commercio è in perdito ovunque, Nunzio ha registrato un dato positivo, crescita delle vendite rispetto allo stesso mese del 2019. Sopravvivenza, sopravvivenza diventa valore aggiunto. Da fine aprile comincia a diventare valore aggiunto e maggio cominciano ad essere dati più confortanti, più importanti, talmente tanto che poi se ne accorge l'Associazione Italiana Editori con la consegna dei dati e poi Repubblica addirittura dedicandoci la prima pagina nazionale sul suo quotidiano prestigioso. E anche nella fase 2 o anche dopo, l'impegno è preciso, il libraio Raider continuerà ancora così. Questo rimarrà per sempre, a testimonianza di questo periodo, come una sorta di rinascita, con la nostra Vespa o in macchina quando pioverà raggiungeremo ogni luogo della città, mantenendolo gratuito come servizio come l'abbiamo considerato all'inizio.